Le mareggiate che in questi giorni hanno devastato le coste campane hanno restituito una fotografia degradante dell'inquinamento dei mari. Arriva un tappeto di plastica, giocattoli, piatti, buste. Necessario evitare che questi rifiuti tornino in acqua. Legambiente Campania da Salerno lancia l'allarme. Dobbiamo intervenire sui nostri stili di vita, prevenendo e punendo chi inquina. Sulle nostre spiagge si stanno depositando tonnellate di plastica. L'appello è quello di evitare assolutamente l'uso e getta, ma soprattutto di lasciarlo in giro per strada, nel mare, perché arriverebbe inevitabilmente ai fiumi e alla fine al mare. Con danni gravissimi. È calcolato che ognuno di noi ormai ingerisce alcuni grammi di plastica ogni settimana attraverso l'alimentazione. Preoccupanti poi i dati sulla salute dei nostri mari. Secondo l'ONU, entro il 2040 avremo altri 80 milioni di tonnellate di plastica negli oceani e nel nostro mare. L'equivalente di 25, in altezza, 25 torre e fail per una quantità impressionante di materiale che per degradarsi impiega secoli.